Sono consigliere comunale di strada, mi piace incontrare i cittadini, ascoltare le difficoltà, raccogliere le segnalazioni dei tarantini davanti magari a un buon caffè a casa di coloro i quali hanno qualcosa da dirmi, devo onorare il mandato conferito mi da 4.200 elettori e quindi voglio essere sempre vicino ai cittadini. Attraverso un rapporto diretto, familiare, potete contattarmi, chiamarmi al 339-240-4240, vedete il numero in sovrimpressione. E allora? Ora ci prendiamo un buon caffè con la classica macchinetta, la tazzulella e caffè e intanto vi facciamo vedere cosa abbiamo trovato di orrendo nella città vecchia. Solo qualche secondo, poi ci sarà un servizio a parte. Vi aspetto, sarò nelle vostre case, davanti a un buon caffè. Grazie a tutti.